Mestieri che cambiano per stare al passo con i tempi e le richieste del mercato. Innovazione e formazione come fattori indispensabili, ma anche trasmissione dei saperi e delle esperienze. Passaggio del testimone da una generazione all'altra. Tutto questo è stato al centro della cerimonia svoltasi ieri sera presso l'Oratorio del Duomo di Trento, che ha avuto il suo clou nella consegna dei diplomi a 16 nuovi maestri artigiani, fotografi, cineoperatori. Essi hanno portato a termine un percorso di formazione di 400 ore, suddiviso in diversi moduli, che arricchiscono con la loro competenza il mondo delle professioni trentine. Tra di loro, quale unico rappresentante dell'Alto Garda, anche il fotografo di Arco Fabio Galas. La consegna dei titoli è stata fatta da parte del Vicepresidente e Assessore allo sviluppo economico e lavoro Alessandro Olivi. La figura del maestro artigiano rappresenta il fiore all'occhiello di sempre più numerose categorie, ad oggi 20 per oltre 300 maestri complessivi. La legge che ha permesso di istituire questa figura di eccellenza risale al 2002, con lo scopo di dar vita ad una figura che coniugasse un'importante esperienza professionale alla capacità di trasmettere il proprio sapere alle nuove generazioni. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!